Si parte con l'imprenditoria femminile, poi si amplia lo sguardo alle sfide della digitalizzazione e della sostenibilità, cercando strumenti e soluzioni per sostenere le imprese più creative e rafforzando il rapporto tra pubblico e privato. Sono i temi affrontati nella due giorni conclusiva dell'edizione 2023 di Primavera d'Impresa, il premio dedicato alle imprese più innovative della Toscana. A Firenze, imprenditori, istituzioni e aziende dibattono su questioni cruciali per lo sviluppo della regione attraverso un confronto diretto fra le realtà più giovani e quelle più consolidate. 250 aziende in gara, molte toscane e altre provenienti da tutta Italia si contendono il titolo di realtà più innovativa. In questi due giorni ci saranno diversi eventi fatti a dibattito in modo tale che ci possa essere una contaminazione reciproca tra i partecipanti ai dibattiti e quelli che sono gli oratori, tutti di livello altissimo. Si dibatterà di finanza, di finanza alternativa, circuiti extra bancari, si parlerà di imprenditoria femminile, di coraggio femminile all'interno dell'imprenditoria, si parlerà di transizione ecologica digitale ma anche di bandi e finanziamenti più classici. Noi mettiamo a disposizione gratuitamente per i partecipanti al premio una piattaforma attraverso la quale possono presentare i propri servizi e attraverso poi questa piattaforma possono prendere appuntamenti in modo tale da poter, come diciamo noi, contaminarsi con altre realtà. L'idea è quella di raccontare un po' le difficoltà delle donne, soprattutto partendo dall'articolo 8 dello Stato dell'Unione, dove si racconta proprio come potrebbe cambiare l'economia dando il dovuto spazio a chi fa il manager ed è donna. Uno sguardo aperto verso la parità di genere con esperienze di donne che in diversi campi si sono affermate. A partire dalla cultura e dall'impegno di chi ha scelto di mettere la sua professionalità a servizio di una causa comune. Dobbiamo fare ancora tantissima strada e da dove iniziare se non dalla cultura. Quindi è necessario un cambiamento culturale, un storytelling nuovo, dove la donna non è più oggetto ma è soggetto. E quindi noi con la We Do It Together, che ho fondato nel 2015 negli Stati Uniti a Los Angeles, siamo una casa di produzione no profit, dove proprio raccontiamo le donne da un altro punto di vista, dal punto di vista delle donne. Ma ci tengo a precisare che nella parola Together vuol dire proprio uomini e donne uniti per questo cambiamento, perché più una società è inclusiva e più che una società è vincente. E poi le storie di donne imprenditrici che hanno trasformato una brutta esperienza vissuta sulla propria pelle in una opportunità per le altre, come accaduto alla società empolese Antichemura, attiva nel settore cosmetico. Io ho sentito appunto un forte dolore nel momento in cui un contratto mi è stato negato perché ero in gravidanza. E' stato un dolore forte perché il lavoro della mia vita era quello che io avrei desiderato veramente fare. E altro dolore è stato ovviamente nel momento in cui mi presentavo alle aziende e mi chiedevano qual è la tua esperienza. Quindi forte di tutto questo ho cercato di trasformarlo, trasformare questa sofferenza in opportunità. E per questo motivo scelgo e seleziono prevalentemente donne e giovani, perché il mio obiettivo è quello di dare possibilità, dare opportunità, dare formazione, perché comunque la cosmesi è un lavoro molto particolare e quindi sono persone che devono essere in qualche maniera formate, ma io di questo non ho paura. Ho soltanto bisogno di persone che ci credano, che si mettano in discussione, che vogliano crescere. E questo per me è l'obiettivo fondamentale. Le competenze si costruiscono, le persone no.